Alle 12 e 30, mentre ero in ascolto al telefono del ricevitore, ecco giungere al mio orecchio, debolmente, ma con tale chiarezza da non lasciare adito a dubbi, una successione ritmica dei tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse. Era nata in quel momento la raggiotelegrafia a grande distanza. Da quel giorno ha fatto passi da gigante ed offre oggi all'umanità il più potente ed universale e mezzo di rapida comunicazione a distanza che il mondo abbia mai conosciuto. Onorevole Presidente, Signor Presidente, Signori Deputati, Signor Presidente, 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 Signor President